ciao amiche buongiorno buon lunedì come state spero tutto bene io oggi sono carica 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 pallettoni e ho deciso di indossare questa bellissima fascetta skin care molto molto colorata chissà chi sarà il protagonista di oggi per andare a illuminare i nostri occhi chissà se già da questa fascetta skin care indovinerete secondo me è facilissimo come tutti i giorni andiamo anche a fare il nostro pratico cocon amiche con l'elastico il cocon a modi lottatori di sumo perché i capelli sul viso mi danno molto 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 fastidio e allora per fare skin care e truccarmi vado sempre a raccogliere i capelli ora andiamo a fare i nostri step di skin care quotidiana con un dischetto di cottone riutilizzabile e lavabile andiamo ad applicare il tonico l'acqua distillata alle rose di roberts è un tonico rinfrescante con una delicata profumazione di rose mi piace tantissimo perché mi dà alla mattina un po di carica e il giusto risveglio ma in modo molto dolce e delicato e mi sento già una persona migliore e ora andiamo ad applicare anche il siero in crema fluida con acido glicolico 2% con attivi astringenti di rosa multiflora purificante opacizzante e anti imperfezioni sempre di acqua alle rose mi piace tantissimo è una confezione da 30 ml e secondo me amiche dalla pipetta facciamo un po di fatica a pescare il prodottino e quindi stiamo quasi per arrivare alla fine della confezione poi cambieremo linea andremo a cambiare linea di skin care ora applichiamo il contorno occhi effetto fresco anti stanchezza di pupa questo è un contorno occhi che mi piace tanto e va a rinfrescarmi subito la zona del contorno occhi ora andiamo ad applicare anche il lip scrub di revlon questo me l'avevano dato in omaggio al tigotà è lo sugar scrub anche idratante esfoliante e anche un po di balsamo dentro mi piace la profumazione che un po menta zuccherata molto molto sfiziosetta amiche adesso è la volta del contorno occhi è un contorno occhi di acqua alle rose sempre di roberts sensitive con collagene vegetale anti rughe anti borse e anti occhiaie molto molto delicato molto diciamo non è né corposo né troppo leggero secondo me è giusto mi piace proprio tanto e adesso ci prendiamo cura anche del nostro viso applicando il senza età lifting sempre di acqua alle rose con acido ialuronico vegetale che distende le rughe di viso e contorni questa crema è pazzesca perché ha una profumazione super delicata ma io sento comunque un po il profumo delle roselline e mi ricorda l'acqua la linea acqua alle rose mi ricorda tanto la mia mamma la mia nonna che quando ero piccola utilizzavano questi prodottini ora andiamo a togliere a eliminare rimasugli di scrub e andiamo applicare questa meraviglia di labello è il soft rosé con 24 ore di idratazione ha un delicato tocco di colore rosa mi piace veramente tanto tra l'altro questa è la formula migliorata ed è proprio soft molto molto delicato un colore rosa veramente delicato e ha gli ingredienti di origine naturale ma ora è la volta anche del collo e decolletè molto importante prendersi cura anche del nostro collo e del nostro decolletè perché la pelle del collo cede anche prestino secondo me quindi andiamo applicare l'extra firme in collo e decolletè di clarence è un trattamento giovinezza decolletè collo levigante e rassodante e non dimentichiamoci delle manine molto importante idrattare e curare anche le nostre manine io oggi applico la comfort crema mani di lancome che avevo trovato mi pare se non sbaglio nel calendario dell'avvento di non dell'anno scorso sì forse dell'anno scorso se non mi sbaglio e adesso è la volta del make up questa è una meraviglia è il correttore di revolution in colorazione c5 devo dire che è una bomba a me che questo mi copre anche l'anima da mummia che esce dal sarcofago inizio a diventare e una persona con un colorito diciamo decente applichiamo anche il fondotinta oggi applichiamo il fondotinta di debora l'instant leaf è un fondotinta effetto lifting istantaneo con spf 30 in colorazione 0 5 e 0 1 quello più scuro è lo 0 5 quello più chiaro è lo 0 1 mi piace come leviga è ad alta coprenza quindi è una diciamo coprenza di fondotinta pazzesca secondo me va proprio a dare quello che io cerco nel fondotinta cioè eliminarmi le imperfezioni andare ad uniformare il mio incarnato sì devo dire che mi piace proprio tanto non l'avevo usato prima di questo periodo quindi per me è stata un po una scommessa ma devo dire che l'ha vinta debora ha vinto questa scommessa debora milano perché questa fondotinta è veramente pazzesco e come tutti i giorni armati di santa pazienza andiamo a sfumare il correttore e i fondotinta che abbiamo applicato nel viso la pazienza è la virtù dei forti amiche quindi armarsi di tanta tanta pazienza per andare ad ottenere un bel risultato di incarnato uniforme ha un effetto superglow questo fondotinta però a me così diciamo non è che mi piace tenere il fondotinta da solo amo fissarlo sempre con una ciprietta oggi andiamo a utilizzare la lace baking powder di revolution una cipria in polvere libera e qua svolazza tutta la cipria amiche super matte fix no flashback fa esattamente quello che promette dura tutto il giorno fissa il fondotinta senza mai dare la possibilità alla nostra pelle di lucidarsi direi che è una delle migliori cipri in polvere libera che io abbia mai provato e l'ho comprata su amazon per soli 4 euro pazzesco amiche ora andiamo a utilizzare il duo blush charming duo blush di holiday premier la nuova collezione di chicco che amiche questo blushino costicchia io l'ho preso in saldo è nella colorazione 01 rose debut ed è pazzesco ce n'è amiche una carriola perché sono 12 grammi quindi questo ci dura veramente una vita e mezza quindi costicchia però c'è tanto prodottino dentro e adesso andiamo a provare insieme anche il duo bronzer enchanting in colorazione 01 sierra ombre sempre di chicco della collezione natalizia holiday premier super soft come bronzer non è tanto scuro io non amo i bronzer eccessivamente scuri non trovo che mi stiano bene però un diciamo un accenno così non mi dispiace e ora amiche chi saranno i protagonisti di oggi eccoli qua i protagonisti di oggi anzi la protagonista di oggi è astra makeup andiamo ad utilizzare gli illuminanti di astra questi illuminanti sono veramente pazzeschi secondo me sono molto 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 belli illuminano tantissimo ma bisogna saperli modulare perché sennò vanno a perdersi un po sulla cipria sul fondo un po con tutto allora come prima sono siamo un pochino indecisa ma andiamo applicare questo che è lo 0 5 la linea e light therapy la chromo therapy ed è un illuminante in crema e questo bisogna modularlo perché guardate attentamente amiche allora ricordiamoci molto importante di chiuderlo bene ma se andiamo a sfumarlo troppo sparisce completamente si va a perdere quindi allora ho deciso ci passo di nuovo il pennello sporco e ci riproviamo perché non si vende direi che il risultato non è dei migliori quindi proviamo a riapplicarlo e invece di sfumarlo tanto con le dita vado a tamponare di più con la spugnetta con l'applicatore e con la d con le dita vado proprio a togliere se c'è qualche grumetto e direi che così l'effetto non so se si percepisce in camera ma secondo me è molto più carino amiche e adesso applichiamo un po dello 01 questo illuminante è un po più chiaro e voglio andare a provarlo sulla punta del naso ma ho paura di fare l'effetto palla da discoteca se però si suma troppo si perde quindi secondo me due applicazioni ci vogliono dai non è male non è male ne ho visti peggiori e adesso sul l'arco di cupido andiamo ad applicare un illuminante in una colorazione un pochino più calda più doratina ho scelto appunto di usare tre colorazioni differenti a seconda della zona che andiamo a illuminare quindi zigomi punta del naso e labbra anzi arco di cupido amiche e questi sono i veri protagonisti della giornata di oggi sono i fantastici ombretti della linea chromo therapy di astra sono gli ombretti liquidi mandiamo un bacio grande alla mica che ci ha ricordato di utilizzarli perché io mi ero letteralmente dimenticata e quindi grazie per avercelo ricordato e andiamo a provare il primo che è in colorazione molto chiara quasi un bianco è praticamente un bianconeve andiamo ad applicarlo nella parte interna dell'occhio amiche super perlescente è luce pura quindi è vero questi illuminanti dovevano dare il vibe un po' cromatici ed è assolutamente vero quindi abbiamo applicato lo 02 nella parte interna dell'occhio andiamo applicare lo 05 che è un bellissimo azzurro cangiante con dei riflessi un po' rosati ed è veramente pazzesco questo ombretto vado ad applicarne amiche un chilo e mezzo un chilo e mezzo perché mi piace mi dà l'effetto mermaid sirenetta io adoro questi colori cangianti perché mi dà proprio l'effetto di sirenetta al mare lo vado a sfumare bene 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 con un po' di bianco perché non voglio dare un effetto troppo marcato e distacco diciamo quindi vado a creare una sorta di micro sfumatura tra il bianco e il celestino azzurrino cangiante anche se inverno a me piace qualche giorno mettere qualcosa di diverso e soprattutto questi sono nuovi di adesso quindi la moda ci proporrebbe di utilizzarli e quindi perché no dato che la nostra amica ci ha anche ricordato di provarli ho scelto di utilizzarli la salutiamo e le mandiamo un bacio grande grande ora applichiamo anche il mascara astra the universal è un mascara volume waterproof extra black veramente molto performante va a creare delle ciglia a ventaglio che sono secondo me uno spettacolo vedete la differenza tra l'occhio truccato e l'occhio non truccato benché abbia un ombretto diciamo abbastanza chiaro perché non è sicuramente amiche un ombretto sfumato un ombretto scuro uno smokey ice è un ombretto luminoso cangiante ma comunque chiaro e tanto tanto mascara ma la differenza tra l'occhio truccato e l'occhio non truccato è incredibile l'occhio truccato risulta più grande aperto luminoso anche direi da un aspetto gioioso fatemi sapere se vi va nei commenti cosa ne pensate di questo make up io non ho sinceramente non faccio fatica anche se ormai è inverno inoltrato e natale non faccio fatica andare in giro con un make up così perché comunque nelle sulle dolomiti c'è anche la neve ieri per esempio amiche c'era la neve qua nevicato bellissimo quindi con un mascara e un mascara amiche scusate con un ombretto così dai riflessi anche bianchi un po perlescenti mi dà l'idea un po della neve e non mi dispiace non mi viene in mente solo il mare con l'azzurro ma con l'insieme di questo ombretto mi fa anche un po vibe sinceramente è natalizio perché no un po le lucine un po il capodanno quindi io lo trovo carino questo amiche il risultato con gli ombretti di astra chromotherapy prossimi giorni andremo sicuramente a provare anche guardo sempre su giù di lato per farvi vedere amiche l'effetto del mascara i prossimi giorni andremo a provare anche le altre colorazioni della linea chromotherapy di astra ma ora andiamo a dare un tocco di luminosità anche alle labbra applichiamo questo gloss spettacolare che unexpected beauty lip gloss di pupa in colorazione 003 mi piace l'abbinamento con l'ombretto bianco e celeste cangiante perché è cangiante fucsia rosa quindi l'abbinamento lo trovo veramente spettacolare mi piace questo rosa abbinato assieme fatemi sapere amiche cosa ne pensate vi piace sono proprio curiosa di sentire il vostro parere e sapere i vostri commenti e questo è il risultato del makeup che abbiamo ottenuto con tutti i prodotti di astra la light therapy illuminante e chromotherapy ombretti vi mando come sempre un bacio grande 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 e ci vediamo più tardi un bacio amiche buona giornata